Dottoressa Sonia Spitz, Ortopedia e Chirurgia Ortopedica, membro dell'Associazione Medica di Vienna. La dottoressa Sonia Spitz del reparto Chirurgia Ortopedica di Vienna ci spiega. Durante lunghe camminate vengono sollecitate principalmente il piede, la caviglia, il ginocchio ed in molti casi l'anca. Nel portare uno zaino vengono sollecitate, oltre il piede, anche la spina dorsale e le articolazioni delle spalle. Il peso dello zaino non dovrebbe superare il 10% corporeo, ovvero sia un massimo di 10 kg circa. Per evitare l'insorgere di irrigidimenti sarebbe bene, prima di ogni pellegrinaggio, fare lunghe passeggiate per abituare i piedi alle scarpe e al fine di allenare i muscoli interessati. È importante sottoporre il piede a visita ortopedica preventiva, essendo molto diffuso il problema del piede piatto, che sicuramente porterebbe all'insorgere di dolori durante lunghe passeggiate. Consiglierei l'applicazione di solette ortopediche a sostegno dell'arco interno della pianta del piede e a protezione della caviglia. Tra i problemi maggiori a carico del piede vi è la formazione di vesciche, la quale è risolvibile con buoni cerotti da applicare immediatamente all'insorgere delle prime avvisaglie di formazione di una vescica. Questo al fine di poter continuare tranquillamente il proprio viaggio. Il secondo problema più frequente è l'infiammazione dei tendini, ad esempio del tallone di Achille o la ben conosciuta frattura da stanchezza del camminare. Quest'ultima frattura si presenta principalmente in persone con piede piatto, ma come già detto, il problema può essere parzialmente risolto con l'applicazione di una soletta ortopedica nella scarpa e con una salutare sosta. Il numero dei chilometri percorribili nella giornata è strettamente correlato alla condizione fisica personale. È solitamente bene iniziare lentamente, in modo da non consumare tutte le energie, ed evitando così di trovarsi alla fine della giornata con inutili dolori che sicuramente si protrarrebbero per diversi giorni. Ci sono particolari lesioni per le quali, anche trovandosi all'estero, si rende necessaria una visita medica, ad esempio la frattura da stanchezza, riconoscibile dall'insorgere improvviso di un dolore pungente nella zona anteriore del piede. A questo punto terminerebbe il viaggio, in quanto tale frattura necessita di cure mediche e di assoluto riposo. Anche nelle caviglie possono insorgere dolori causati da eccessiva sollecitazione e che necessitano di cure mediche. Nell'articolazione del ginocchio e dell'anca possono invece insorgere versamenti causati sempre da eccessiva sollecitazione. Anche in questo caso bisogna recarsi immediatamente dal medico per evitare ulteriori complicazioni in futuro, ad esempio il danneggiamento delle cartilagini. L'utilizzo di bastoni da passeggio è consigliabile, anche se in modo non continuativo per evitare l'insorgere di problemi da eccessivo utilizzo a carico delle spalle e della schiena, come anche l'insorgere di infiammazioni della guaina tendinea. Consiglierei di fare ogni tanto una pausa di un giorno, in modo da rilassare il corpo intero al fine di poter meglio proseguire. Ribadisco comunque l'importanza del sottoporsi ad una visita internistica ed ortopedica, prima di ogni pellegrinaggio. Molto importante è l'utilizzo di scarpe collaudate che sostengano debitamente l'articolazione. In questo modo il pellegrinaggio si rivelerà un vero successo. È anche una indica per il nostro corpo, perché il questo giro è molto schmerzato, il questo giro il movimento, può essere anche sposti in form di una scena di scena, da è anche una pausa di scena. E' anche una scena di scena di scena. È anche una scena di scena di scena. In questo giro il giro di scena di scena, è anche un giro di scena di scena. E questo giro di scena di scena, che ci sono più di scena di scena, La mia opinione sulla Verwendung di Stecken, che è molto moderno, Stichwort Walking, non mi piacerebbe sempre sempre per l'interno, ma che variano. Per l'interno del Rucksack, per l'interno del Rucksack, per l'interno di Stecken, ciò che è sicuramente a delle schmerze in le Schulter. e ciò che ho già visto, sono schmerze in le handgelenche e le sehnenscheidenzioni. Quindi io credo che sia in qualità, come è anche il Vandero già già in questo senso, come il Vandero è già già in questo senso, come il Vandero è sicuramente meglio, e il Vandero è sicuramente in questo senso. Quindi io credo che sia in questo senso, e non credo che sia in questo senso, che sia in questo senso. per la vita. Il mio consiglio di un tippe è sicuramente un giorno di pausare, non è che non è più spesso, è solo per il giorno di più, non c'è più di più, non ci sono alcuni muscoli, i geni dimenticoli e si riusciti, e poi è un giorno di più. Il mio consiglio per il Pilger è importante, Grazie a tutti.